Ufficio dello sceriffo, mi serve una squadra subito. FBI. Benvenuta nel Wyoming. È venuta da sola? Sono sola. Lui è Corey Lambert. È lui che ha trovato il corpo. È un omicidio. Conoscevo quella ragazza. Era una tosta. Avete solo sei agenti per gestire un'area grande come il Rhode Island. Ci serve il suo aiuto. So solo quello che dicono le tracce. Vuoi ripetermi qual è il suo lavoro? Do la caccia ai predatori. Che ne pensa di venire a cacciarne uno insieme a me allora? Per quale motivo un adolescente verrebbe qui? Da chi stava scappando? Ti concentri sugli indizi ma ti sfuggono le tracce. Non sarebbe meglio aspettare i rinforzi? In questa terra non ci sono rinforzi. In questa terra c'è da soli. Contralla il retro! Oh mio Dio. Ho avuto fortuna. La fortuna qui è merce rara. Getti la pistola! Ehi! La fortuna qui non arriva.